Ciao a tutti, bentornati in questo nuovissimo video, oggi facciamo due video perché ieri eravamo stanchi, quindi abbiamo sto perdere Allora, oggi si mangia il tamburello O il tamburo, vabbè, uguale Eh? Dilla tu? La zitta La zitta di popolatare Anche solo regno Allora, io ho fatto il tronchetto di Natale Ti vediamo domani sera Perché ovviamente domani è la vigilia, quindi vedete i video vlog La cucina Ti aspetta che torni dal lavoro? Sì Poi tu potrai lavorare domani che la vigilia in Natale Però vi posso fare vedere l'anteprima Del tronchetto No, non ce voglia No, è troppo lunga, ti ha la pori C'è troppo casino in frigo Che domani devo cucinare Vieni, salta Sì Sì Quanto c'è grasso C'è ingrassato? Sì, sono stai con papi Sì, tu cosa vuoi? Tu non sei partecipi mai? Allora, per questo video tutto ci vuole bene A voi lì da non su Noi ci vediamo domani che la vigilia in Natale Buona vigilia in Natale da fulmine E ci vediamo stasera, domani sera, scusate Qui Sì? Vai, attacca! Attacca! Noi ci vediamo domani per un nuovo video Ciao!